Note di stile. Tradurre la moda e il lusso senza inciampare. I fought the law and the law won. Traduttori e decreti. Lo sapevate che anche il settore della moda è soggetto a decreti e normative che possono coinvolgere noi traduttori? Ai noi. Oggi voglio parlarvi di uno in particolare. Il decreto legislativo 9 giugno 2020 numero 68, ovvero nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019 numero 37 legge europea 2018. E quel numero che vedete in slide. Questo decreto, insomma, regola l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti recanti termini cuoio, pelle, cuoio pieno fiore, cuoio rivestito, pelle rivestita, pelliccia e rigenerato in fibre di cuoio, sia come aggettivi, sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole, o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di cuoio, pellame, pelletteria o pellicceria. Attenzione, perché il decreto vale anche per termini in lingua diversa dall'italiano, quindi Fofur, ad esempio. Oltre a stabilire le corrette definizioni e indicazioni sull'etichettatura, il decreto numero 68 sancisce l'espresso di vieto di utilizzare i termini già citati per identificare materiali non derivanti da spogli animali, ad esempio simipelle, pelle vecana, pelle sintetica e altri termini associati a materiali sintetici. Nella pratica che cosa significa? Che non possiamo più tradurre Fofur con pelle sintetica, né Fofur con ecopelliccia, che sarebbe già sbagliato di per sé. Tutti i materiali ottenuti da fibre sintetiche devono essere facilmente identificabili. Ma perché? Beh, per garantire una maggior chiarezza al consumatore. Se ci pensate, fino ad oggi c'era tantissima confusione sul tema. Se è vero che nell'etichetta è indicato chiaramente che un capo in, tra virgolette, pelle sintetica è realizzato in un tessuto trattato tramite spalmatura, solitamente poliuretano, è altrettanto vero che in pochi si prendono la briga di guardare queste etichette. Che ne sa un cliente medio della differenza tra icopelle, pelle sintetica e finta pelle, che oggi non si possono nemmeno più usare? Seppur utile, il decreto crea non poche grane e inciampiano i traduttori di moda. Come possiamo comportarci? Non tutti i brand hanno un recipito alla normativa, prima di tutto. C'è chi ancora non si è adeguato, come vedete nella immagine a destra, pelliccia sintetica, e chi invece si inventa delle soluzioni fantasiose. Come fa il poliuretano ad essere considerato ecosostenibile? Insomma, qual è il nostro ruolo in questa faccenda alquanto noiosetta, almeno dal punto di vista traduttivo? Il traduttore di moda è anche un consulente. È vero, adeguarsi alle normative dovrebbe essere una prerogativa del nostro cliente. Ma se ciò non avviene, come facciamo? Beh, è bene che noi facciamo presente la cosa e che ci dimostriamo proattivi, magari proponendo delle soluzioni alternative da adottare. E se il nostro cliente proprio non ci vuole ascoltare, che cosa facciamo in tal caso? Beh, lì la responsabilità è sua. Per essere proprio sicuri e sicure, assicuratevi di aver mandato una mail in cui menzionate il decreto, così sarete al 100% trasparenti e poi, insomma, lo sappiamo. Scripta manent. E se invece il nostro cliente ha deciso di adeguarsi alla normativa, beh, meglio tardi che mai, ma non ha ancora un glossario, che si fa? Vi metto qui alcuni esempi da tradurre. Come vi comportereste in questo caso? Come ovviereste al problema di tradurre 4-4, 4-leather, vegan leather e 4-shelling? Ricordate che se il brand sottolinea la parola vegan, vuol dire che ha interesse a comunicarla ai suoi clienti. Magari ha una ampia platea di clienti vegan che vogliono essere sicuri che quel capo, quell'accessorio, proprio non contenga pelle animale o derivati di pelle animale o addittivi di origine animale. Fatecelo sapere nei commenti qui su YouTube o nel gruppo Facebook degli allievi STL. Proponete dei termini, delle traduzioni, dei traducenti e raccontateci anche quali sono le principali difficoltà con cui vi siete scontrati nel trovare delle alternative corrette. Queste erano le note di stile di questo mese. Fateci sapere, mi raccomando, le vostre soluzioni. Io vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo presto con una nuova nota di stile.